Un grande medico che potrebbe essere un grande assessore, così Patrizia Barbieri cala l'asso. A meno di due settimane dalle elezioni di Piacenza, il sindaco uscente in campo per un secondo mandato con il centrodestra annuncia l'intenzione di nominare come assessore alla sanità il medico piacentino Luigi Cavanna. Perché Piacenza ha tante cose da sviluppare, non ha semplicemente il tema del nuovo ospedale, il tema dell'Università di Medicina e Lingua Inglese, ha la necessità di guardare a quelle che sono le nuove fragilità, la riorganizzazione, la medicina territoriale. Nei mesi scorsi il suo nome era stato inserito anche nella lista dei potenziali candidati del centro-sinistra, il medico si era però sfilato. La priorità più importante credo che sia quella di coordinare le varie forze che ci sono a Piacenza e la priorità importante è portare fondi a Piacenza, fondi vuol dire personale, vuol dire risorse umane, vuol dire tecnologia, vuol dire fare un passo in avanti, quindi la priorità è quella di lavorare di più assieme. Questa sembra una frase fatta ma non è così facile. Cercare di interfacciarci con le istituzioni regionali, ma non solo, ma anche a livello nazionale e cercare di dire Piacenza, da un punto di vista della sanità, deve essere considerata per quello che è. Domani a dare la carica al centro-destra sarà Giorgia Meloni con un comizio in Piazza Cavaglia alle 16.45.